cari amici di visione tv benvenuti al nostro nuovo approfondimento il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi c'è il regista tommaso minniti ciao tommaso grazie per aver accettato il nostro invito ciao francesco grazie a te per avermi invitato ecco con tommaso parleremo di un suo importante lavoro prego la regia di mandarlo in sovraimpressione eccolo qui un film clandestino una storia inaudita la verità finalmente sul delitto moro ecco non è un caso moro un film di tommaso minniti tratto dall'inchiesta di paolo cucchiarelli tommaso a distanza di quasi mezzo secolo continua ad alleggiare sull'italia il fantasma di aldo moro ecco una uccisione che ha cambiato il corso della storia non solo italiana ma anche probabilmente europea e mondiale perché secondo te ancora oggi il caso moro è così di attualità ma è di attualità perché moro rappresenta in teologia si chiama il catecon cioè colui che argina eh il male diciamo allora moro in politica è stato probabilmente l'uomo chiave è stato è stato la politica italiana con la caduta di moro che è una caduta voluta una caduta progettata tutt'altro rispetto a quello che dicono le brigate rosse o qualcun altro che si poteva uccidere o moro o andreotti si è progettato il futuro dell'italia e dell'europa così come oggi sono quindi se noi volessimo andare oggi a cercare i motivi veri per cui a trieste succede quel che succede in italia per entrare a fare il tuo lavoro che fino all'altro giorno hai fatto liberamente devi oggi essere certificato che sei in vita se tutto questo accade perché 43 anni fa questo argine nel versante politico è caduto è crollato e quindi tutti quelli che sono venuti dopo sono venuti con il mandato in tasca di liquidare l'italia e quindi se noi non ci accorgiamo di questo segno che è accaduto 43 anni fa difficilmente riusciremo a leggere i fatti di oggi e a metterli nella casella giusta cioè nella casella di un'italia che a un certo punto come ci dice claudio signorile vice segretario del partito socialista che è uno dei testimoni del nostro film a un certo punto ha cambiato verso decisamente cambiato verso e oggi siamo probabilmente all'epilogo di una siamo in un crinale in cui dovremo prendere delle decisioni importanti per salvarci letteralmente la pelle ecco tommaso viviamo un'epoca strana dove qualsiasi ragionamento critico intorno alle intenzionalità del potere viene bollato come fake news o come complottismo ecco i vari mentana formigli magari sarebbero capaci di sostenere che moro è morto di indigestione o è morto nel sonno di caso naturali ma non che c'è una trama voluta pianificata da centri di potere precisi individuabili dietro la sua morte ecco in realtà la un'inchiesta come la tua mette in luce le tante diciamo così usiamo un eufemismo incongruenze rispetto alla narrazione ufficiale qual è secondo te la menzogna più evidente che è stata difesa fin dall'inizio dai dagli strumenti mediatici e politici pur di nascondere verità indicibili ma fai riferimento al caso moro in generale al caso moro naturalmente ah beh dunque secondo me la menzogna dunque sono probabilmente due o tre i pilastri di questa dell'inchiesta di paolo cucchiarelli non è la mia tra le cose fondamentali c'è la dinamica della morte perché la dinamica della morte così come è asseverata dalla versione br stato nasconde la mano del mandante ma la cosa più importante è che per la quale abbiamo delle testimonianze autorevoli tra cui quella di tina anselmi il primo ministro donna italiano è che tutti sapevano dove moro fosse io una volta ho scritto in un post immaginate se 43 anni fa qualcuno fosse andato come quel ragazzo musso in giro per le strade con un megafono a dire tutti sanno dove aldo moro ma nessuno vuole liberarlo esattamente come poco tempo fa è successo ed era esattamente così la nostra inchiesta l'inchiesta di paolo e il mio film mette in luce che era evidente a tutto il mondo politico alla chiesa alla malavita purtroppo anche alla famiglia moro dove fosse moro i servizi perché dici tommaso perché dici purtroppo anche alla famiglia moro interessante questo passaggio beh perché la famiglia moro io riporto a un certo punto il dialogo tra moretti e la moglie di moro che a un certo punto dice una cosa che forse passa inosservata ma dice esattamente noi qui siamo prigionieri la famiglia moro era come prigioniera in casa in quei 55 giorni quindi sicuramente non ha potuto fare tutto quello che era necessario e sapeva che fosse necessario per liberarlo perché se noi proviamo e riusciamo a provarlo mettendo in fila delle testimonianze degli elementi decisivi e inoppugnabili che tutti sapevano per esempio che moro era in via gradoli quando ancora oggi dei rappresentanti delle istituzioni si permettono di dire che no tina anselmi non ha detto questo no moro non era in via gradoli noi sappiamo che moro era in via gradoli cerchiamo di provarlo sappiamo anche che vi sono elementi decisivi e la commissione moro 2 anche li riporta per cui moro come prima tappa di prigionieri era in via massimo 91 a Roma moro è stato in luoghi dove la sabbia ha ricoperto il suo vestito le sue calze le sue i suoi indumenti e quindi probabilmente un luogo riconducibile a fregene quindi tutti questi elementi ci sono la politica e il giornalismo di oggi che sono ovviamente dei per me sono dei babbuini scesi dalla montagna del sapone non possono altro che ricondurre all'idea di fake news quello che in realtà la protezione della ragione di stato noi viviamo oggi in un super stato in cui le democrazie nazionali sono state ovviamente lavate via per cui anche la ragione di stato non è più la ragione che sintetizza gli interessi degli italiani ma sintetizza ovviamente gli interessi di un potere trasversale che al di fuori dei confini dell'italia e quindi i giornalisti come menta quelli che tu hai citato non possono far altro che etichettare attraverso il termine la locuzione fake news tutto ciò che in realtà è qualcosa che esce che esula dalla protezione della ragione di stato che per sua che per sua ontologia per sua essenza deve essere e rimanere segreta quindi noi siamo destinati e questo film in fondo è destinato anche gli a rimanere segreto perché io ho avuto dei contatti per una prevendita con grandi piattaforme alla fin fine l'alternativa era o ti censuriamo completamente oppure tu te lo vai a vendere per conto tuo ovviamente io ho deciso di di starmene per conto mio in una piattaforma venderlo veramente quasi singola persona per singola persona e quindi questo è la verità purtroppo non si può spaccare in faccia alla gente come un cazzotto ma devi sottilmente riportarla devo dire che questo film è molto aiutato dalle musiche di Johannes Bickler che fanno della verità non tanto un qualcosa che tu ricevi con la mente anche perché l'inchiesta di Paolo è veramente inattaccabile e blindata ma che tu devi ricevere per forza anche con il cuore altrimenti non farai mai tuo l'insegnamento i grandi maestri del novecento che oggi non ci sono più in fondo nel mondo della cultura Pasolini stesso Streller che è il mio grande maestro in fondo conoscevano bene come attraversare attraverso le ragioni del cuore quelle della cultura della civiltà della responsabilità civile e della mente quindi senti Tommaso le BR erano la maschera dietro la quale si nascondeva potere tra virgolette legittimo? Beh sì probabilmente altri analisti hanno parlato per esempio di infiltrati probabilmente qualcuno di loro delle BR informate cosiddette era un vero e proprio infiltrato che venne diciamo che non fu catturato ai tempi di dalla chiesa e che quindi ristrutturò le brigate rosse che poi sarebbero servite a questo a questa necessità. Ti referisci a Moretti? Eh beh direi di sì direi di sì fatto sta che lo stesso Signorile nell'intervista dice una frase a un certo punto veramente sorprendente perché Claudio Signorile ci ha veramente rilasciato delle cose importanti a un certo punto dice è chiaro che Sciascia si chiede come mai nel momento in cui la trattativa stava passando dai socialisti si allargava la democrazia cristiana proprio in quel momento le BR hanno ucciso Moro evidentemente risponde Claudio Signorile perché le decisioni erano prese altrove non certo nel piccolo cerchio dei brigatisti ma in quella che Signorile chiama la cupola strategica che sta al di fuori dei confini dell'Italia. Chi facceva parte di questa cupola strategica Tommaso? Kissinger per esempio? Beh insomma beh sì ovviamente Signorile lo nomina il mondo kissingeriano una parte della CIA ma in realtà nella vicenda da Moro c'è tutto il mondo tutto il mondo si ritrova in via Fani via Fani è un attentato prefigurato dagli servizi segreti di tutto il mondo i servizi segreti italiani lo conoscono noi abbiamo elementi alcuni dei quali purtroppo non abbiamo potuto inserire nel film per altri motivi ma ci sono elementi che ci fanno dire che quello di Moro è un vero e proprio martirio cioè Moro sapeva in anticipo cosa sarebbe successo i servizi segreti italiani sapevano e passano informazione i servizi segreti stranieri tra cui quelli francesi passano informazione a quelli italiani che rimangono inerti perché via Fani il rapimento di Moro e l'uccidità dei cinque agenti di scorta non poteva essere superato come evento non poteva essere diciamo non realizzato per cui i servizi segreti si dividono successivamente a via Fani tra chi tenterà di salvare Moro e chi invece lo darà già per spacciato dopodiché c'è l'uomo di Kissinger il quale convoglierà tutte le trattative all'ultima trattativa che è quella che vede come protagonista la chiesa Paolo VI amico amico personale di Aldo Moro l'ultima trattativa nel momento in cui sembra volgere verso la soluzione positiva in realtà il tavolo sarà sbaragliato e Moro con un atto di di improvvisa freddezza da parte dei propri custodi viene ucciso. Se riesci a migliorare strada facendo insomma qualcosa nella connessione perché tanto insomma si blocca l'immagine vedi un po' se c'è modo di migliorare qualcosa senza interrompere il flusso di questa interessante intervista intanto noi proseguiamo quando si parla del caso Moro spunta in automatico la figura di Cossiga ecco che responsabilità ha l'ex presidente della Repubblica Italiana nell'omicidio Moro? Ma probabilmente Cossiga è la figura più anche drammaturgicamente più interessante perché Cossiga è amico di Moro Cossiga ogni volta che parla non mente mai Cossiga quando parla naturalmente usa un linguaggio ambiguo che nasconde sempre però una verità quindi Cossiga è addolorato ma Cossiga dal Viminale diciamo che ospita il comitato e quindi anche Steve Piesnick cioè l'uomo di Kissinger e si trova con le mani legate per cui a un certo punto Cossiga che forse tenta anche di salvare il suo amico Moro perlomeno in un'incursione quella prevista nella villa di Polghetti a Pallo Laziale incursione che viene bloccata alle ore 13 forse tenta anche di salvare l'amico Aldo Moro ma sicuramente a lui spetterà il compito poi di certificare la morte del suo amico perché è una cosa insuperabile la morte di Moro è un evento talmente programmato e necessario per la politica internazionale che non poteva essere superabile probabilmente alla fine Moro viene illuso che con il silenzio che promettendo il silenzio e le dimissioni lui potrà non politicamente ma almeno personalmente essere riconsegnato alla propria famiglia mentre invece non è così anche perché il mondo politico non se lo può più permettere ma neanche il mondo politico italiano perché Moro dal carcere capisce tutto e quindi probabilmente capisce in che mani aveva lasciato lo Stato noi diciamo una frase molto forte che è mia nel film cioè lo Stato dopo quei colpi al cuore di Moro non è più davanti alla canna dell'arma ma dietro quindi se noi vogliamo sapere oggi questi questi sciagurati individui che occupano gli scranni dei palazzi istituzionali da dove vengono ecco vengono esattamente da quel da quella Reno 4 ma non davanti l'arma la mitraglietta Scorpion che sparò i colpi al cuore di Moro bensì dietro tanto è vero che l'autore il killer probabilmente viene 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 custodito dallo Stato fino alla morte colui che i giornali identificano fin da subito come il killer viene custodito dallo Stato e muore in una cella di massima sicurezza mai interrogato sul delitto Moro e questo è un modo di procedere molto che conosciamo vuoi ricordare che è questo personaggio al quale stai alludendo? Bene si parla di Giustino De Vuono che è uomo dell'andrangheta e che quindi denuncia come la fase finale del delitto Moro dei 55 giorni abbia visto protagonisti diversi rispetto a quelli ehm ai brigatisti e quindi soggetti eh che diciamo probabilmente dovevano custodire Moro perché l'altra grande novità che Paolo Cucchiarelli diciamo fa emergere nei suoi due libri inchiesta è che Moro all'ultimo eh sembra poter essere traghettato attraverso un'auto del Vaticano verso la salvezza così non è c'è un intervento che signorile chiama intervento tangenziale di chi va e spara. Ecco ogni tanto purtroppo vediamo che la tua immagine si blocca peccato insomma perché ehm non toglie nulla alle argomentazioni però magari rende un pochino più eh complicato eh l'ascolto. Va bene. Proseguiamo su sull'approfondimento del caso Moro. Ecco tu dici ehm ci sono stati anche elementi di indrangheta che hanno partecipato a quell'evento che cambia la storia d'Italia e eh del mondo. Si ripete un po' lo stesso schema forse poi nel 92-93 quando magari elementi terminali delle mafie locali utilizzati da burattinai occulti hanno fatto saltare Falcone e Borsellino. Secondo te c'è una linea di continuità fra la morte di Moro e le stragi di Capace e Via D'Ameria? Ma guarda ehm io non non diciamo non amo esprimermi se non se non ho elementi diciamo a cui appoggiarmi. È chiaro che l'elemento di continuità è il concetto di Stato. Cioè come dicevo prima nel momento in cui eh lo Stato non è più rappresentato da soggetti che per esempio abbiano dato la vita. Noi abbiamo una certezza che Moro ha dato la vita per lo Stato. Eh personalmente ho anche la certezza che Moro sapesse. Moro sapeva esattamente quale sarebbe stata la sua fine. Quindi la notizia che noi abbiamo sicura e che cerchiamo di tirar fuori nel film è che Moro è morto per lo Stato. È un martire dello Stato. Chi non è morto per lo Stato e oggi rappresenta lo Stato eh probabilmente ha accettato tutto quello che Moro non poteva accettare o non voleva accettare. E quindi oggi è sempre più chiaro che eh l'inaccettabile ovvero l'essere non la trattativa tra Stato e mafia ma l'essere purtroppo tutt'uno tra Stato e certi elementi ehm mafiosi che stanno all'interno che stanno all'interno dello Stato. Questa è una conseguenza del fatto che eh il catecon l'argine sia si sia rotto. E quindi tutto ciò che ehm la costituzione anche per esempio pone come argine ehm che oggi è stato bellamente bypassato nell'arco di pochi mesi eh quando l'argine cade è chiaro che ehm i grandi politici i grandi uomini di Stato sono lì a fronteggiare o che la stessa Costituzione è preparata a fronteggiare quando noi togliamo l'argine tutto possiamo aspettarci che entri nella nostra società. Non c'è più la porta, non c'è più il portone che chiude. Moro era uno di quei portoni. Oggi lo Stato probabilmente è tutt'uno con la trasversalità mafiosa del mondo. Tommaso il ministero dell'interno dell'epoca lavorò per favorire l'uccisione di Moro attraverso uomini precisi che avevano magari ruoli di responsabilità. Dunque il ministero dell'interno era in mano a Cossiga che subito dopo la morte si dimette. È chiaro che poi c'erano eh soggetti, comitati ehm all'interno dei quali ovviamente lo stesso Steve Pieznik. Steve Pieznik viene chiamato perché il ministero degli interni e la politica interna italiana eh si accorge immediatamente eh si accorge immediatamente qual è la matrice del rapimento e la matrice è oltreoceano eh per cui non potendo in alcun modo ehm eh agire eh davanti al padrone, al proprietario, alla alla madre patria in questo caso gli Stati Uniti ehm chiedono di che eh gli Stati Uniti stessi ci portano il loro uomo, ci portino il loro uomo per poter agire secondo eh il loro disegno. Quindi è chiaro che il diciamo che il livello è sempre sottile. Noi non possiamo dire che Cossiga eh abbia eh diciamo remato per la morte di Moro. Possiamo dire che la struttura della di tutta la politica italiana e questo ce lo dice anche signorile era impostata in modo che mentre il popolo crede che l'articolo uno diciamo racconti di una sovranità del popolo secondo le forme e le modalità previste dalle leggi eh i politici sapevano bene che ehm la loro autonomia politica in campo economico, politico, culturale eh era eh enormemente limitata dai vincitori della guerra e quindi nello specifico dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti. Per cui se non si può dire che all'interno vi fossero degli elementi di specifica lotta nei confronti di Moro si può dire che il Ministero degli interno attraverso le sue varie i suoi vari comitati ma anche attraverso Cossiga e anche attraverso l'uomo di Kissinger hanno fatto sì che la 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 strada più naturale per la politica fosse l'eliminazione del problema. Moro rappresentava una pietra d'inciampo che quindi con un calcio viene spazzata via. Non è un caso che Cossiga si inginocchierà davanti a Moro. Senti eh Tommaso si parla spesso del del rapporto fra Moro e Berlinguer e anche di uno strano attentato che ebbe Berlinguer in Bulgaria e si salvò eh miracolosamente. Stanno insieme le due cose l'attentato a Berlinguer e l'omicidio Moro e infine perché secondo te Berlinguer sposò la linea della fermezza condannando a morte quindi l'uomo che con lui aveva avviato il dialogo politico più importante di quegli anni? Beh sicuramente stanno insieme perché non non scordiamoci che anche il KGB è in mezzo alla alla vicenda Moro per cui se da una parte il il governo di 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 solidarietà di unità nazionale non andava bene né all'un fronte né all'altro né all'un blocco né all'altro perché perché il concetto di blocchi di fermare la politica italiana al blocco occidentale che era la maggioranza che doveva stare al governo e al blocco orientale che invece doveva stare all'opposizione nel momento in cui tu crei il governo di unità nazionale tu vai a spezzare l'equilibrio di Gialta l'equilibrio di Gialta lo hanno deciso i vincitori della guerra e la guerra è sangue quindi il sangue dei vincitori dei sangue dei vinti non è che si riscatta con le chiacchiere probabilmente noi ancora non abbiamo riscattato il sangue dei vincitori per cui l'America e i vincitori della guerra hanno ribadito con la morte di Moro e forse anche il KGB e quindi l'unione sovietica con l'attentato a Berlinguer ribadivano che l'avvicinamento soprattutto in Italia che era zona di frontiera l'avvicinamento dei due blocchi in quel momento non era consentito dai vincitori della guerra. Poi l'altra domanda scusa che tu m'hai fatto Ecco perché secondo te il partito comunista di Berlinguer sposò una anacronistica strategia del mancato dialogo condannando di fatto Moro alla morte? Ma noi evidenziamo che anche l'amato presidente Pertini era all'interno dei socialisti che furono l'unico gruppo parlamentare che per primo comunque si mise in campo per la trattativa quindi anche Pertini quindi un uomo al di sopra di ogni sospetto era per la linea della fermezza dell'intransigenza. Il partito comunista è Berlinguer che Moro nomina in uno dei suoi ultimi scritti dal carcere dicendo loro Buona fortuna vi auguro buon lavoro perché da ora in poi con il mio rapimento voi non potrete più presentare alcuna Ci sei mi senti? Sì sì ti sento prego ti abbiamo messo in sovraimpressione l'immagine del tuo film perché la tua figura va a scatto Pertini si blocca quindi diciamo è meglio tenere l'immagine del film fino a quando non si risolve se si risolve il problema di linea Ecco prego E quindi Moro augura buona fortuna a Berlinguer Chiaramente Berlinguer così come altre figure di spicco del partito comunista in qualche modo tradiscono la politica morotea Ma perché? Perché anche essi capiscono che l'eliminazione di Moro è un qualcosa di insuperabile Non può essere superato e quindi è un tradimento che è tipico della politica I politici italiani ma anche Moro stesso capisce in che mani è e quindi tutti quanti probabilmente capiscono che L'ostacolo non può essere superato La realpolitik in quel caso richiede la morte di Moro Quindi il tradimento se si può parlare di tradimento probabilmente la politica è tutto un tradimento Lo stesso articolo 1 della Costituzione probabilmente nella misura in cui non ci ha avvertito che la nostra è una sovranità limitata Dall'aver perso la guerra probabilmente anche quello è un tradimento Tant'è vero che oggi che non c'è più bisogno dell'articolo 1, dell'articolo 4, dell'articolo 3, dell'articolo 13, dell'articolo 16 Tutti questi sono stati bypassati senza la minima procedura costituzionale che tra l'altro non si potrebbe utilizzare Perché quegli articoli della Costituzione sono immodificabili Ecco perché oggi la stessa realpolitik potrebbe far parlare di tradimento Ma in realtà non c'è tradimento La politica vuole prefigurare un concetto di sovranità e di autodeterminazione che nei fatti nella storia l'Italia non ha meritato Perché ha perso con una guerra che l'Italia stessa ha cercato Quindi probabilmente noi ci troviamo oggi in un'epoca in cui dovremo rimeritarci quella verità che la Costituzione prefigura teoricamente all'articolo 1 Senti Tommaso, cerchiamo in conclusione di questa intervista di capire quanto è cambiato il corso della storia in conseguenza di quella tragedia L'Europa di oggi, questa Europa infame che annulla le Costituzioni, che crea di fatto una dittatura mascherata da democrazia liberale E figlia di quell'omicidio, cosa Moro non avrebbe permesso se fosse rimasto vivo? Questa è una frase che ci lascia Maria Fida Moro A cui io chiedo, chiesi un virgolettato per poterlo inserire nel film Ovvero che l'Europa e l'Italia di oggi non sono delle ricadute occasionali della morte di Moro Ma la morte di mio padre, dice Maria Fida, è servita specificatamente a creare l'Europa e l'Italia così come sono oggi E quindi se nella teoria noi abbiamo un'Europa che doveva essere costituita per i popoli Nella pratica noi abbiamo che si sta programmando un lager che è sempre più visibile In che modo Moro forse avrebbe potuto cambiare le sorti dell'Italia e dell'Europa? Non lo so, probabilmente in nessun modo Nel senso che forse avrebbe potuto continuare ad arginare nel contingente della vicenda politica Ma certamente l'Europa stessa si costituisce per travalicare le capacità dei popoli nazionali di autodeterminarsi E questo non è mai un bene Anche perché poi l'Europa si iscrive in una globalizzazione in cui il potere è talmente rarefatto E talmente impersonale che si prefigura uno scenario veramente tetro Dove noi non sapremo neanche contro chi manifestare Per ora abbiamo qualche babbeo ancora seduto sugli scranni E qualche burocrate oligarca che capeggia il tutto, tutto lo schieramento Ma ben presto secondo me potrebbe essere il tutto più invisibile Ecco in questa invisibilità degli attuali governanti Noi possiamo avere non più un riferimento vivo Ma un riferimento storico, un riferimento civile Un riferimento anche spirituale Perché non dimentichiamoci che Moro muore Sapendo che la sua strada lo porterà alla morte E quindi c'è anche un elemento veramente cristico Nel film e anche nel finale del film Grazie a Tommaso Minniti per essere stato con noi In conclusione riproponiamo il suo lavoro Eccolo qui, non è un caso Moro, vuoi spiegare come si può acquistare? Dove e come Tommaso a beneficio di chi ci guarda? Grazie mille Francesco Dunque è un film nascosto Per forza di cose Lo trovate se vorrete nel sito www.noneuncasomoro.com Qui potrete avere la visione Oppure ordinare E io ve lo consiglio perché non si sa mai online Quello che succederà Ordinare questa chiavetta USB Che è semplice E può essere vista in TV, computer, tablet, ovunque Nella chiavetta USB ci sono anche gli extra Con alcuni tagli E quindi Io credo Questo è un film che non vi lascia Così come vi ha trovato E questo io lo posso garantire Non lo avrei fatto altrimenti Grazie ancora Tommaso per essere stato con noi Grazie a te Ci aggiorniamo Magari torneremo sull'argomento E se tu hai in preparazione altri lavori Saremo felici di presentarli al nostro pubblico Ciao Tommaso Bene, sei bloccato Ciao, grazie Ecco, bene Peccato ogni tanto per questi problemi di collegamento Però insomma Sono degli inconvenienti che dobbiamo affrontare Dobbiamo pazientare Nella speranza insomma di Di riuscire in prospettiva A migliorare sempre la qualità dei nostri collegamenti Grazie a tutti voi Cari amici Vi ricordo che la visione di voi Ha bisogno del vostro sostegno E con noi viviamo grazie alle donazioni Di chi ci guarda e ci apprezza Potete aiutarci con bonifico Paypal Vi potete abbonare sul nostro sito www.visionetv.it Sì, penso io non avrei sbagliato www.visionetv.it Grazie a tutti voi Alla prossima Grazie a tutti 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 Grazie a tutti